La distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta del rifiuto secco residuo è iniziata presso il magazzino OGEA di Via Nuova di Corva. A partire da oggi infatti si potrà sostituire il vecchio contenitore giallo NAPO nelle giornate di sabato 5, martedì 8, mercoledì 9, venerdì 11 e sabato 12 marzo. Gli utenti impossibilitati a venire in queste date potranno farlo a partire dal giorno 17 marzo recandosi direttamente allo sportello OGEA in via Molinari. L'assessore comunale all'ambiente Nicola Conficoni. Da metà marzo cambia il sistema di raccolta dei rifiuti nella zona sud-est della città. In particolare gli utenti presenti nei quartieri di Valle Noncello, nella zona industriale sud, all'Interporto, nella frazione di Villa Nova Storica, in Via Levade, nella zona di Torre Bassa avranno il rifiuto secco residuo ritirato ogni 15 giorni. Nel 2014 abbiamo cambiato il sistema di raccolta in centro città per adeguarlo a quelle che sono le necessità degli utenti. Nell'ottobre dell'anno scorso lo abbiamo modificato in comina uniformandolo a quello del vicino comune di Roveredo in Piano. Poiché quell'operazione ha avuto successo abbiamo deciso di esportarla anche nella zona sud-est della città e l'obiettivo è quello di contenere i costi di gestione e di consolidare la riduzione delle bollette che sono diminuite sia nel 2014 che nel 2015. L'invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di collaborare e di venire al magazzino GEA di Via Nuova di Corva a ritirare il nuovo contenitore da 120 litri.